Però una sera tornate a cena. Magari, Pirandello, ma siamo impegnatissimi. Eh, sono le prove in teatro del malato immaginario. Ma non era finito? Ha avuto una ricaduta. E siamo liberi solo a Natale. Grazie! Giorgio e Maria sta fanno Natale con noi! Evviva! No, non ci pole! Super All Inclusive. Tutto illimitato, da casa e dal tuo smartphone. Chiamate, messaggi, internet e ADSL. Ma allora passa il Natale con noi. Sì, sì. Ma non dovevi provare? No, no. Nei negozi Wind. Grazie!